Potremmo farti un video da un momento all'altro, quindi preparati, me lo stai a fare? Sì, grazie, vedete perché sta la luce mi stai a fare Ma guarda quanto sussica, sento bo... Che stai a cucinare? Per le camicia Patatine? Non si vede in calcio, regà Non si vede in calcio, non si vede in calcio Non si vede in calcio Non si vede in calcio Ah, ma non si fa freddo Si fa calma Allora, questa è una tipa coatta Un'amica mia Che sta a fare la sexy mentre stende i panni Perché gli piace fa la porcona Ma che sta a dire? Gli piace fa la maialona Eh, pure a te ti piace Sempre corperizzamate fuori Ma la gente in galera Com'è sexy sto video? Ma che sta a... Dai Poi c'è la cucinina Ecco Alessia che sta cucinando le patatine fritte Ecco le qua le patatine E' una marra No, è una marra No, è una marra Perché io... Perché io... Sei meno Certo Napoletano Sì, sei meno Maiale Sti due maialone Sanno, vabbè, un po' di casino Però tranquilla Eccola Questa è la prima maialona Che arriva Adesso la fa uno spogliarello sul letto Ok, ciao Sto arrivando Alessia Allora, Alessia Sola, poverina Mi sento molto sola E questo è il bagno Tutto, regà Io, mio Io, mio Io, mio Basta, finito così Ora sono io papà leggo Ecco, finito così Grazie